Buonasera, vi ho convocati per il testamento del vostro congiunto Carlo Rossi. Leggendo le sue ultime volontà, vi devo informare che a voi non aspetta nulla. Come aspettare un caro? No, non è possibile. Pure lui ha scritto così, questo è il suo testamento. Io ho sottoscritto Carlo Rossi, nato a Como il 13 novembre 1936, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, così dispongo del mio patrimonio. Lascio alla signora Mia Urisso. Le leggo il testamento. Apprezzerai le sfumature dei vari paesi che ti lascio. La colma di Sormano, Magreglio, Civerna, Bellagio e Pomo. Fai di tutto ciò tesoro, costruendolo e proteggendolo. Carlo Rossi Grazie a tutti i tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori di Sormano. I nette a table. Grazie a tutti i nostri spettatori.